Sei pronto a giocare per vincere fantastici premi? Ehi, calma gattino, riflessi prima di tirare fuori gli artigli. Allora non perdere le puntate di Miraculous, tutti i giorni alle 18.10. Durante il cartone, memorizza l'oggetto che compare in vita e corri su supertv.it per partecipare al concorso. Ogni giorno ci sono in palio fantastici giocattoli firmati giochi preziosi. E il 18 marzo ci sarà un premio speciale, solo su Su!